La finanziaria regionale, che dovrebbe essere varata dall'Arse entro il prossimo gennaio, aprirà le porte all'incasso delle royalties estrative che toccheranno a Palazzo di Città al pari di tutti i comuni costieri, anzitutto per lo sviluppo dell'investimento sul gas Argo Cassiopea. Si tenterà di apportare aggiustamenti tecnici, ma il grosso della norma non verrà mutato. Il progetto per il gas di Eni potrebbe costituire un ritorno finanziario essenziale per le casse di un municipio in pieno dissesto. Intorno all'investimento e alla multinazionale però non mancano ulteriori risvolti. Arrivato sul tavolo del governo regionale l'accordo per assicurare compensazione agli operatori del settore della pesca, che dovranno mutare le proprie strategie proprio per la presenza a largo del sistema Argo Cassiopea. Tra il governo regionale e la multinazionale è stata raggiunta un'intesa ora apprezzata proprio dal presidente Schifani e dagli assessori, a partire da quello a ramo, Luca Sanmartino. L'impatto che lo sviluppo di Argo Cassiopea avrà in mare sarà compensato agli operatori di Licata, Gele e Porto Empedocle. Gli indennizi, in base all'accordo definito dal governo regionale da Enimed, saranno parametrati seguendo criteri numerici riportati nelle carte sottoscritte. Le compensazioni andranno alle imprese di pesca e ai marittimi. Tutto il settore sulla carta dovrebbe ottenere un ristoro per limitare l'incidenza generata dalla riduzione delle attività in mare. Se per le scorte nazionali di gas Argo Cassiopea diventa uno snodo tra i più importanti, le marinerie invece dovranno adattarsi. In città si fa già fatica a causa dell'assenza di un porto fruibile. Così tante imprese del settore concentrano il focus delle attività nei porti di Licata e Porto Empedocle. Il governo regionale, apprezzando l'accordo, ha dato mandato all'assessore Sanmartino per sottoscrivere definitivamente l'intesa con la multinazionale.